Ciao a tutti ragazzi, io sono Clouds, bentornati in un nuovo video dedicato a Gwent Oggi parliamo di un bel mazzo cancerino, ma proprio di quelli che piacciono a noi con Triplo Virus Stiamo parlando di Reverse Hunter di Regni, è un deck che ricorda molto il Ravenant per meccaniche potenziale Ma allo stesso tempo ha un gameplay simile al Never Pass, non so se ve lo ricordate, con il caro Uprising e tutti i soldatini che si baffavano Insomma, questo perché? Perché la nostra strategia tendenzialmente sarà giocare, duplicare, sviluppare alla nausea questi signori qui Niente di troppo complicato, ovviamente in italiano è bugato, non è legame retrovie ma è legame davanti Quindi non metteteli dietro, vanno davanti Purtroppo è traduzione sbagliata, del resto con tutti i bug che ci sono, le carte che fanno finta di fixare e non fixano Questo è proprio il problema minore, sappiate che il Clouds vi avverte che questi devono andare davanti Cosa dicono questi signori? Ordine, evoca una coppia base di sé su questa fila e ne imposta la forza base, un valore pari alla forza di questa carta Meno 1, che cosa vuol dire? Noi ne giochiamo 1, lo sdoppiamo, però il secondo non avrà, se ha forza 1, la possibilità di sdoppiarsi a sua volta Quindi dobbiamo continuare a duplicarli di nostro Abbiamo diversi modi, adesso lo andiamo a vedere Con legame, dicevamo, alla fine del turno danneggia di 1 l'unità nemica più forte Quindi non perde mai il target La cosa brutta di questa carta è che, essendo che danneggia di 1 l'unità nemica più forte Non abbiamo la sculata del ping a fine del turno su un'altra cosa Che ci piace, perché a noi non piace l'RNG e noi vogliamo giocare un gioco di carta Dove decidiamo noi dove e che cosa fare Per duplicare questi signori abbiamo diversi modi La lista, come vedete, senza stare a guardare proprio lo specifico di dirvi il perché di ogni carta Vi dico il come funziona, come duplicare questi signori Abbiamo ovviamente Ulivo Noi settiamo uno di quelli, giochiamo dietro Ulivo Ulivo automaticamente va a duplicare altre copie di quella carta Che seppur spawnano con forza 1 da Ulivo Comunque possono duplicarsi Perché non dice che lui deve avere 1 di forza Dice solo che ne evoca 1 con 1 di forza in meno Quindi questo è importante Che vuol dire che noi partiremo di Ulivo Se abbiamo per duplicare uno spawn Mentre se invece dobbiamo giocarlo dalla mano Giocheremo magari prima il reverse hunter e poi Ulivo dietro Se invece vogliamo comunque usare il leader Probabilmente andremo lo stesso prima di Ulivo Non abbiamo solo Ulivo per duplicarli Per duplicarli abbiamo Boholt Carta molto forte di quelle nuove Ogni volta che evochiamo un soldato Lui si pompa di 2 Quindi ha spam sostanzialmente più volte in un turno anche A sua volta ne evoca una copia Con formazione Quindi per evocarla istantaneamente va messo davanti Se no se lo mettiamo dietro lo possiamo mettere dietro proteggendolo Magari con qualcosa Magari con il buff di una guardia reale E poi andare a sfruttare la formazione Ma se dovessimo metterlo davanti E occupare spazio non c'è problema Perché noi giochiamo anche la doppia copia di questa Che oltre a essere sinergica con i soldati Avendo drappello Quindi va a rosicchiare qualche punticino in più Ci sposta un'unità su un'altra nostra fila Quindi se l'avversario ci sposta il reverse hunter Li possiamo rimettere a posto Se diversamente l'avversario dovesse decidere Di provare a tapparci la lane Possiamo spostarle dietro Se dobbiamo mettere boholt davanti Possiamo spostarlo dietro Ulivo anche dopo lo possiamo spostare dietro Adesso ci arriviamo al perché Voi direte che cazzo serve dietro Se tanto spona solo davanti Ma ora ve lo dico Quindi non è un problema Guarnigione Molto forte in questo deck Evochiamo un soldatino bronzo Che non necessariamente deve essere riversante Può essere anche uno di questi cosi qui Che anche essi vanno a sdoppiare I nostri rivers hunter 99.9% delle volte Qualche altra volta capiterà di no Però tendenzialmente sì Abbiamo il tartufo Visto che sono unità a legame Per sdoppiare il rivers hunter Abbiamo adalia Che può essere usata sia sui rivers hunter Che sui rivers scout Abbiamo Cos'altro abbiamo? Abbiamo la gara di incantesimi Che ci resetta L'ordine di un rivers hunter Quindi possiamo riutilizzare Un rivers hunter Per risdoppiare Un altro rivers hunter Come vedete Ci sono 13.000 modi Abbiamo Scusatemi Anche il leader Che sdoppia un rivers hunter Ok? E lo buffa pure Entrambe le copie Quindi molto 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 facile Da duplicare L'unico matchup Realmente molesto Che ha questo deck In ottica di Di punti Ci stiamo contro tutti Contro tutti i deck del meta Compreso il phantanilfgaard Eurobuffer Che vi piace tanto Ci stiamo tranquillamente Contro skellige Abbiamo un push potential Devastante Perché Riusciamo a premere 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 Di danni L'unico skellige Che rompe un po' più il cazzo È il raffica spietata Perché? Perché sostanzialmente Le sue cariche di leader Bypassano I nostri rivers hunter Quindi sarebbe Un'accortezza Cominciare a sviluppare Guarnigione e tartufo Prima di Nel possibile Chiaramente Prima di giocarli dalla mano O utilizzare ad alia anche In modo tale Da andare a buffare Nell'immediato I nostri rivers hunter E Mandarli fuori In range Dai suoi ping Contro skellige È stata inserita Una carta Che è questa Che prima non giocavo Perché contro skellige Almeno contro la versione Guerrieri Ha un'unica utilità Bloccare Unula Perché unula Purtroppo Con i suoi ping I ping che a sua volta Porta dai soldati Anch'essa bypassa L'armor Quindi I nostri rivers hunter Che hanno i due di armor Per proteggersi Ahimè Vengono trombati A sangue Quindi Onde evitare queste Gang bang Di reverse hunter Io ho inserito Margarita Che nello specifico Match up Serve per ulula Non vuol dire Che se l'avversario Vi lascia un'unità Veramente buona Da bloccare A metà del round Non sia worth Non state ad aspettare ulula Anche perché ulula Tendenzialmente la giocheranno Nelle prime due o tre carte Quindi dovete Dovete avere Quella cortezza Di capire Quando e quando No Bloccare Contro Skellige Ha altre utilità In una delle partite Che vi porto Per esempio Contro regni Settentrionali Questa carta Contro cavalieri Ha vinto Round 1 Perché è andata A bloccare Gli immortali Che altrimenti Avrebbero creato Un panico Un disastro Assurdo Perché vuol dire Che l'immortale Si tanca 3 Value Del nostro River hunter Lo scudo Il più 2 Quindi poi diventa Complicata Andare a starci Dietro in punti Ok Quindi contro cavalieri Andate necessariamente A bloccare L'immortale E Avete un purify Qualora vi dovessero Bloccare un'unità Quasi tutti i mazzi Giocano monoblocco Ok L'unico E appunto Altro matchup Che vi caga Veramente le palle È Cavalieri Nilfgaard Con il leader Con le due cariche Che bloccano Perché Con il nerf Avigo Ovviamente Lo spot Se l'è preso Il blocchino A 5 Quindi quelli Giocano Due leader Charge Che bloccano Due 5 Che loccano Ramon Che prende la 5 Che locca E E i due slave driver Che drop Che copiano Il soldatino Che blocca Quindi capite che Con 7 lock Uno Porca puttana C'ho 9 spazi davanti 7 meli lock Insomma Lì diventa un po' Complicato Nonostante tutto È vincibile Per la pura value Perché lui Investendo tutte Queste risorse Che vi ho detto Nel bloccare Quindi sviluppare Dei body Di merda Sostanzialmente Va a perdere valore Quindi andate A recuperare Quello che perdete voi In body I nostri body Non sono granché Ma in un round Corto Se dopo push Lui magari Ha già giocato Leader di Renfri Se non ha Ramon Nausica Nausica Allora lì Bravissimo Tendenzialmente Dovremmo riuscire a starci Una cosa che vi posso dire Su questo deck È abusate A merda Della red Perché si può Nel giro di 3 giocate Piuttosto tirate leader Tanto come avete visto Ci sono 92 modi Per duplicare Quindi sti cazzi E Ecco È importante Capire il potenziale Di questo deck Perché proprio Come vi ho detto prima Per farvi l'esempio Del Never Pass E del Ravenant Con Mobilization Anche questo deck Come entrambi Quegli archetipi Ha bisogno Di iniziare la partita Quindi Cercate di portare Il round 1 A 6-7 carte left Già in una condizione Dove l'avversario Annaffa Cioè scusate Annaqua E O Annaspa 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 È l'italiano importante Però c'era anche Annacqua Sono sicuro che si possa dire Comunque vabbè L'avversario è lì Che già rincorre Insomma E non vuole Arrivare deep Nel round 1 Perché per counterare Sto deck La gente proverà Investire tanto E comunque accorciare Il round 2 Perché poi Il round 2 corto Ovviamente Se anche noi dovessimo Pushare No Non siamo Abbiamo un mazzo Bisogno di qualche turno Quindi Spingete subito Dai primi turni Altra cosa Questo quando siete di red Ovviamente Quando siete di blu Piano piano Costruite la vostra strategia Contate Di volta in volta I ping Per due Dei riversanti Che avete in campo Cioè se io passo qui Gli faccio 5 Sto davanti Poi gliene faccio altri 5 Dopo che lui gioca E poi gliene faccio altri 5 Dopo che lui ha giocato Cioè Contate questa cosa Perché vi troverete In un sacco di situazioni Dove l'avversario Pensa Che voi Continuate Poi non continuate Avete 5 6 riversanti In campo Sono Mitragliate Da 6 7 danni a turno E questo non ci sta più dietro Quindi surrende a round 1 E infatti è capitato Un sacco di volte Soprattutto nella prima partita Dove io sviluppavo Una tonnellata di roba E gli avversari Continuavano Io passavo E quelli potevano Popum E non ci arrivo Popum E non ci arrivo Popum E non ce ne surrende Ok Quindi è importante Abbiamo Signora del Lago Oniro e Assalto Per tutorare Le nostre out Perché comunque siamo Un mazzo combo E a noi interessa E quindi abbiamo 2 4 5 tutor Diciamo così 5 tutor E tante cose le peschiamo Abbiamo L'orsificazione Dopo che abbiamo utilizzato I nostri manufatti Possiamo andare a guadagnare value Altresì Può essere buona L'orsificazione Da tirare Su Buclera Avversario Può essere buona Sullo scenario di Scoiatel Può essere buona Sullo scenario di Cavalieri Ci sono tante robe Che possiamo fare Contro Cavalieri Decidete voi Se tirarla o meno A seconda Se avete Spora in mano Gli controllo Le unità Non gliele controllo Quindi ok Sempre buono tirarlo Comunque nel dubbio E abbiamo le due Dinveandre Per andare a Ricaricare L'effetto Dei nostri Manufatti E qua mi fermo Su Guarnigione Perché Guarnigione Come vi ho detto prima Se voi La leggiamo bene Dice Potenzia di 1 Un soldato alleato E le sue copie Quindi vuol dire Che se noi era un 1 Andiamo a spostare Ulivo dietro Perché abbiamo riempito Davanti già E Ulivo continua a spawnare Anche le copie dietro Verranno baffate Da Guarnigione Capite che si genera Una value mostruosa Ok Sono tutte seregi Comune con l'altra Piccole touch card Barra cose Che vi possono interessare Allora io ho messo questa Perché ho trovato Diversi mirror match E nel mirror match Questa Più o meno Tirata al momento giusto Vince un round Da sola Ho messo Vabbè il blocco Ve l'ho già spiegato Perché per quei particolari Match up Ho messo la spora Per riuscire a controllare Un pochino Nilfgaard Quella Buffer Se mi scappa qualcosa Contro cavalieri Aiuta Un sacco Il push Lo vedrete In una delle partite E qualche altra applicazione Carina La si trova anche Contro scoiat Insomma Alle brutte simulica Una 4 prova Non dà fastidio a nessuno Ovviamente il purify L'ho messo Per ovvi motivi Qualcuno di voi Potrà pensare Che Eh ma manca Canicola Canicola non serve In questo deck Tendenzialmente Perché per gli scenari Abbiamo bearification Che fa un po' Da canicola brutta Diciamo E Per altre cose Non ne vale la pena Basta una spora Però Qualora Vi sentisse la necessità Di mettere canicola Potete levare Margarita Eresa Mettere canicola E magari inserire Un altro purify Volendo No O levare la spora E mettere un purify Insomma Ci sono Un minimo di Detaching A seconda di come Shift al meta A me Eresa piace Perché anche contro Nilfgaard soldati Non la versione full block Ma magari la versione Mezza blocchi E mezza Con flank No Quindi con le tre Che a fine turno Pingano uno Con i cavalierini Merdosi da tre Con due armor Insomma Quelle robe lì Svolta tantissimo Perché va a cacciare Tutta l'armor Dalle unità E di conseguenza Va a negare I loro effetti Quindi è come se fosse Una spell che fa due danni Su tutta la row E gli blocca tutto Più o meno Ovviamente Avete capito Altre touch card Possono essere queste Queste non sono Granché Come carta E non la userete Quasi mai Ma è la migliore Più sinergica Filler da quattro prov Che regna a disposizione Volendo potete mettere questi Che sono altrettanto Decenti Diciamo così Però tra le due Questa se la tirate A fine round Che non avete avuto il tempo Di tirarla prima Fa cagare il cazzo Questa comunque La sua value la fa Ok Comunque Anche perché proattive Come capite Tra i river scout Adalia I manufatti Ulivo E bla 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 Non mancano Quindi non Sentono necessario Di mettere questi Almeno per ora Poi la lista potrà Evolversi in futuro Però E lo scoiattolo Ovviamente perché Direte voi Perché mazzi tipo Che il Tullis Rompono i coglioni Diciamoci la verità Rompono i coglioni Quindi se Che il Tullis Dovesse rientrare in meta Per counterare sta roba E altre cazzate Possiamo mettere Canicola E levare Margarita Perché Margarita Ovviamente con le charge De leader Sono Cioè novelo Immaginate riuscire a bloccare qualcosa Che il Tullis E Quel matchup ovviamente Lo sciamano per il defender Per carità di dio E' buona contro i bussolotti Di Skellige E' buona nei mirror Perché anche gli altri Giocano l'Eco E' buona contro Scoiatl Perché gioca l'Eco Insomma qualche applicazione Ce l'ha Contro Nilfgaard Non serve a una beatissima minchia La mulighiamo via E non c'è problema Nel senso La lista come vedete È molto semplice La strategia È fine Raffinata Diciamo così Ma non di particolare Complicatezza Quindi il mio consiglio E' di guardarvi bene Le partite dimostrative Chiedetemi nei commenti Quello che volete Io vi rispondo Anche Domande tecniche Su particolari matchup Per quanto riguarda i cambi Se Vi mancasse qualcosa Cerco di venire incontro Ma Qualcosa si può Diciamo Andare a rosicchiare Ovviamente le core card Non le possiamo cambiare Perché siamo un combo deck Detto questo Ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un like qui sotto E commentate Da Klaus è tutto Buona giornata a tutti Direi che Spora Essendo di blu Può essere figa Tenerla in mano Che non si sa mai Questa non serve Questa nemmeno Appoggiamo semplicemente Non si sa mai Non si sa mai Non si sa mai Vedo molto confuso Signore Ah Sta givappando round 1 penso O simili insomma Ok qua tiriamo questa Noi vogliamo potenzialmente questa round 1 Direi che possiamo mettere nel mazzo questo Che potrebbe essere il nostro target di assalto anfibio E qua facciamo così E andiamo a sdoppiare questo Il blocchino va ponderato però Insomma Noi abbiamo body discretamente piccoli Quindi non che lui faccia chissà che value Su sta roba Va 4 direi che Più che gestibile Sì sì Brother Hello Hello brother Sì vivo Sei vivo? Oh Ehm Ma facciamo una bella cosa Andiamo a sdoppiare Se a fare Prendiamo via questa E ci prendiamo Suppongo Questa Che tanto Sto round è vinto Quindi Non ci curiamo troppo Delle eventuali buff Che può fare Non fare Noi round 1 lo vinciamo sempre Oltre a quel mazzo lì A parte mani grossolamente orribili Dovremmo vincere sempre Certo Oh Qua addirittura andiamo a tinnare le cartacce che non ci servono Del tipo così E andiamo a prendere questa La tiriamo qua sopra E facciamo così Dovremmo essere tranquilli E qua noi Più o meno Il round possiamo dire Di averlo vinto Ok Ci posso stare Assolutamente ci posso stare C'è una giocata brutta brutta da parte di Mr. Opponent Facciamo così E ricarichiamo sta roba Siamo allegramente avanti Eh classico leader in two pass Mi sembra abbastanza lotto So cosa dica la testa agli esseri viventi Altrimenti non funzionano tutte bene Ecco Lo bleediamo ovviamente Noi vorremmo pescare a Dahlia Non sei tu Ouch Questa contro di lui non serve a niente Mi ha misato a Dahlia lei e a Dharan Però possiamo fare i Dharan da qui direttamente Suppongo che sia Ward Lui ha sprecato Blackblood e leader Quindi removal di rette troppe non ne ha Noi abbiamo il blocco per Cahir E lui non dovrebbe gioca Non dovrebbe giocare Cioè l'hawk potrebbe giocarne Oh Ok Wow Vabbè Vabbè In qualche modo la Dahlia è arrivata E doppio kek Ehm Ecco facciamo così Attiviamo leader Dobbiamo prendere vantaggio nell'immediato Assolutamente Palmerin lo possiamo accettare Più che accettare Non so perché Varu Ehm Varu Non ce ne frega neanche più di tanto del Varu Facciamo così Ehm Andiamo a baffare questi tre Perché decidiamo noi quanto deve durare il round Quello non si baffa Che senza armor tende a non baffarsi Si Assolutamente A questo punto direi che facciamo così Lui potrebbe giocare Irdan in realtà Eh però ce ne frega un po' il giusto l'onesto Che Irdan non gli basta mai Io penso che qui farò Eh stavo per dire Faccio una bella giocata anti-Irdan E mi sposto ad Alia dietro E gliela buttiamo nel culo Perché qua andiamo a prendere la seconda scala da sedia Ma non ce n'è stato bisogno Caro Barney Ho bevuto troppa birra signor Gamble Signor Skellige mi vedo costretto a violentarla Le chiedo scusa Questa può essere buona Questa carina però di round 1 fa un po' merda Quindi la cacciamo Questa ci apre tutte le eco Questa abbiamo doppio coso Questa non serve a niente Ok Spora purtroppo Quel signore su cui la possiamo usare C'ha quella tendenza ad aver scritto immune Quindi un pochino rompe il cazzo Un pochino no Più si Nello specifico Lui ovviamente sta provando A prendere il largo Ma noi non interessa vincere a Ivan più di tanto Ci interessa vincere il round in generale Qua direi che possiamo fare così Andiamo a tinnare tutte le freaking eco dal mazzo Eurotinning Mamma mia Eurotinning Manca solo Exodium Abbiamo vinto Mazza è cattivo questo Ma davvero lo tiri sopra Che è malato Ma chi sono io per dirti niente Del resto comandi tu Perciò Direi che Adesso facciamo Lost Tartufo Oddio si Tartufo qui sopra Andiamo a duplicare questa roba qui Picchiamo questo ricco punto Imponente Su di lui Dopo dovremmo riuscire a non farlo scappare Non sono sicuro al 7000% Perché non so bene cosa Quale malattia strana Posso andare a giocare questo tizio Però Tendenzialmente Insomma questo non muore Quindi va bene Ce n'è un po' Sbattacchiamo il cazzo Di sta roba qui Qua andiamo a duplicare Le nostre zozzerie Li baffiamo Per levargli i blood tears Siamo egregiamente avanti Target per il cazzo bubolo Qui ce l'ha dato Quindi lo tiriamo E siamo avantissimo direi Ufficialmente non c'è più armor da pingare Vorrebbe E qua Si lui può accocciare il round Sicuramente Ma non va da nessuna parte Obiettivamente non va più da nessuna parte Adesso facciamo adalia sulla 2 che sdoppia Riparte la fiesta Io Io sento codesta musica E stare un pe... Un po' il cazzo in realtà Però Evidentemente no Perché il signore Non ha interesse a... A levare niente Sì Fastidio dai fastidio Però Siamo... Ah comunque avanti Insomma Non ci diamo neanche niente Quindi non ci diamo neanche guerra fra clan Che non dovrebbe avere ancora Ah invece si perché l'ha scartato Lo zozziel Qua va a trovarsi un altro sparo Per quelle cose lì Da 3 Perché rompere il cazzo Non è mai abbastanza Che bellezza Ehm... Qual è la più merdosa Che possiamo tirare Visto che... Questa sicuro Mettiamo qui In case Ma non dovrebbe essere Ottile Onestamente Questo sta per passare Questo tizio Anche perché non ci arrivi Se io passo Tu non ci arrivi Nel senso Quindi Guarda un po' Immaginate avere una board Che abbia più di 3 punti È molto bello Ma non è questo il giorno Oggi giochiamo con le 1 Brother Senza cimitero È ancora più bello Allora round 8 carte Dovrebbe essere Abbastanza lungo E con abbastanza lungo Intendo che I Dharan ce l'abbiamo E il resto Un po' sti cazzo In realtà Posso metto questa nel mazzo Per avere un target Di assalto anfibio Vi dico la verità Ah Bene Ok Ok Andiamo così Yes È proprio Esaste Sì sì Che vuole Lull Vabbè questo umore Nel senso Non mi illudo Che I Dharan rimanga vivo Sinceramente parlando Però È lì Non dà fastidio a nessuno Sì Boh Ti dirò Nel senso È andato molto peggio Il popolo devi uccidere Brother E io ce sto Stai tentato di mettere questo Però muore E poi diventa un giochino Al massacro No Andiamo Andiamo subito Cazzo duro Diciamo a non lasciargli board Che lui deve rincorrere Tutto il tempo Visto che ha perso Ivan Non è troppo divertente Noi abbiamo anche un buff di massa Abbastanza cospicuo Questo è il rest Il rest su un altro Di quei cosi Sì Davanti Ci posso stare Hai rotto un attimo Il cazzo Con questi Morkwarg Se ti devo dire la verità Detta fra me Comunque Insomma Dai Visto che ha gentilmente Buttato via Morkwarg Non abbiamo neanche necessità Di attivare la Garrison Per adesso Certo 10 punti a turno Per un mazzo come il tuo Sarà il caso Di tirare haste No Yolo Troverà quello 3-2-1 Perché Invece no Merda Ma lei è un professionista Cazzo Non avevo capito Scusa Non avevo capito La magnificenza Della sua demenza A questo punto Questa magari la blocchiamo Lasciate ogni speranza A voi che ci provate Brother Immaginate avere una board Forse dovresti surrendare E finirla qua La butto lì Ma non ti gusta la questione Eh Va bene Dunque Visto che il signore Continua Ma non mi voglio Buttare questa Quanto meno Onestamente Penso proprio Che faremo Così Prendiamo la Dinveandra Qui Mi sembra Sia la carta Più egregia Sennò possiamo Anche prendere Questa In realtà La garanti Che potrebbe stare Però per adesso In realtà Possiamo ancora Fare così Vediamo Blattis Non che serva Per quanto Eh Prossimo giro Muore tutto So Vedi tu Cosa Pensi di Risolvere Magari È ora di fare East Forse Te la butto lì Che non so Non so Non mi piace Fare East Si usa Il tuo paese Eeeh Bro Che togge di Contento tu Ecco Hai capito Così Letteralmente Non ti rimane Niente Cioè Con niente Intendo Niente Non ti rimane